Sono 29 i casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Peschiara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Con questo aumento il totale nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza è di 2832 casi. Il dato di oggi si riferisce all'analisi di 1749 tamponi, 1.6% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 18 su un totale di 1.732 tamponi analizzati, 1%. 323 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 26, meno 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.712, meno 12, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 293 pazienti deceduti, più 7 rispetto a ieri, 478 sono invece guariti, più 40 rispetto a ieri, di cui 178 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate alla Covid-19 sono diventati asintomatici e 300 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 33.624 test, di cui 27.991 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi 240 si riferiscono alla ASLE Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 706 alla ASLE Lanciano-Vastocchieti, 1.253 alla ASLE di Pescara e 633 alla ASLE di Teramo. Per quanto riguarda invece i 29 casi di oggi, si riferiscono 1 alla ASLE Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 16 alla ASLE Lanciano-Vastocchieti, 10 alla ASLE di Pescara e 2 alla ASLE di Teramo.